Lui Pest 3, Dukla 2, il Dukla campione di cecoslovacchia, va in vantaggio con questo gol, c'è un tiro di Vizek respinto a stento dal portiere Toth, riprende il pallone Gajdusek che riesce a realizzare il terzo minuto del primo tempo, il Dukla si porta in vantaggio sul campo del Lui Pest Doja. Il pareggio di Jalos al 43esimo, ma di nuovo all'inizio della ripresa, al 15esimo, va in vantaggio con questo strano gol di Neoda lanciato in contropiede, va di nuovo in vantaggio il Dukla, rivediamo l'azione nella quale il difensore cerca di servire il suo portiere uscito molto oltre l'area di rigore, i due poi si scontrano, si intrecciano, c'è un attimo di suspense, sbuca primo nel campo inquadrato dalla telecamera Neoda che realizza il gol del 2-1. Vantaggio anche questo temporaneo, 5 minuti di tempo, Noghi con un gran sinistro realizza il 2-2, ecco, e sentite l'esultanza del telecronista ungherese. Al 26esimo per rigore, su rigore concesso per un atterramento di Fekete, verrà da parte di Fajekas il 3-2, ma rivediamo intanto il bel gol di sinistro da lontano, con il quale Noghi porta il risultato tra Uypest e Dukla sul 2-2. Noghi nazionale d'Ungheria, manca Torosik nella formazione padrona di casa, infortunato in incidente automobilistico, ecco vedete intanto l'atterramento in area che induce l'arbitro romeno Anderko a concedere questo rigore realizzato da Fajekas, 3-2, tutto da giocare comunque per la qualificazione.